Ci è voluto tutta questa morte e tutto questo amore perché potessero un giorno essere scritte queste parole. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme della Costituzione. Articolo 2, 3, 4, 5, 6, 136, 137, 138, 139. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, a D, 27 dicembre 1947, il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola controfirmano il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini, il Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, visto il guardasigilli Giuseppe Grassi. Grazie, viva l'Italia. Grazie. Grazie a tutti.